Il primo è che abbiamo ricevuto tardi il piano di volo e poi anche le operazioni di preparazione del velivolo hanno preso un po' più di tempo del solito. Dunque ora siamo pronti a partire, numero 3, in sequenza di decollo, tra pochi minuti in volo. Impiegheremo 8 ore e 30 minuti per arrivare al Kennedy di New York. Oggi voleremo a quote superiori ai 10.000 metri. Buone le condizioni meteorologiche lungo il volo, un pochettino di turbolenza durante la fase di salita, magari superando le Alpi e poi bel tempo fino alle coste canadesi lì è prevista un pochettino di turbolenza approssimandoci alle coste canadesi, quindi a Terra Nova e poi bel tempo fino a New York. In New York le previsioni danno una leggera nuvolosità prevista al tempo del nostro arrivo con una temperatura attorno ai 15-16 gradi centigradi. Con piacere che vi presento il vicecomandante del volo, si chiama Luca Iozza, primo ufficiale. Ecco, con piacere vi presento anche il responsabile dei servizi di bordo, il signor Massimo Zingone. Vi ringrazio per la cortesa attenzione, vi auguro un buon volo e una buona permanenza a bordo. Buongiorno, 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 il mio nome è Andrea Gazzola. Siamo arrivati a fare un pochettino sul parco, due a un pochettino di rinforzamento di rinforzamento. E poi abbiamo ricevuto un plan di rinforzamento di rinforzamento. In ogni modo, siamo pronti a andare. Il tempo di rinforzamento per arrivare a Kennedy, New York, sarà 8 ore e 30 minuti. A presto, c'è il tempo di rinforzamento di rinforzamento di rinforzamento di rinforzamento di rinforzamento. Buongiorno a tutti. Grazie 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 a tutti.